È stata una partenza richiamata, un doppio chilometro per cavalli di quattro anni, gentleman, Sofia numero 11, non corre, mezzo meccanico in movimento. Ci va a completare la piegata, ha avuto problemi il 9, e va via la macchina in velocità, più che buono l'allineamento. San Di Giri Falco impegna a fondo il 5 di Scipio, parte alla grande Sics di Costa, pedinato da Superman. Scende San Di Giri Falco, punta in avanti Sics, parcheggia Superman Gianfi. Il 7 si elimina, e così siamo al completamento del lancio, che se ne va in 15. Si presenta a chiedere strada, la dovrebbe ottenere tiratatamente, e infatti il 15 Sics al comando su Scipio, che era partito molto forte. 400 in 29,7 è piuttosto sostenuto questo lancio, e ora il buon bevi l'acqua, dopo il violento strappo, 500 da 1,15 e mezzo, tira un po' i remi in barca, conduce liberamente e gradua. 600 in 45 e 9, Sics di Costa, in terza posizione Superman, a precedere Sahara Griff, no, anzi il 3 di Serpitin, poi via via tutti gli altri, e viene via ora a largo, i cavalli in ritardo vengono via per ricuscire il gap. 1,3 e mezzo il mezzo miglio, e viene via ora Superman, e Superman anticipa l'idea di Sahara, e anche di Sun. Ma Sun è finito a tabellone, si elimina, primo chilometro nell'ordine del 18,2, almeno sul mio, e così due dei più giocati in pole position, con Sics di Costa che allunga agevolmente, e mantiene il comando, ripiega, invece Superman Gianfi, mezzo miglio alla conclusione, 15 e 4 di frazione, e sono tre cavalli che hanno preso leggermente il largo, il 15, il 14 e il 5, gli altri un po' più discosti. Frazione di fronte, in 15 e 4, si migliora Sahara Griff che pargheccia in quarta posizione, cavalli che affrontano la curva, i due si staccano, si va a timbrare in miglio, nell'ordine del 2,3 e mezzo, e mi sa che si giocano la vittoria, ma Sics di Costa ancora una di margine nei confronti dell'avversario. Cavalli al completamento della curva finale, retta d'arrivo, Sics di Costa allunga e si distende, e viene anche stappato, e una volta stappato, elude l'avversario. Viene via bene il 4 di Stornello, facile, Sics di Costa su un buon Superman Gianfi, mentre per il terzo, dopo un po' molto tempo, arriva il 4 di Stornello. 1,15 e 9, Sics di Costa ben guidato, come al solito, da Biagio bevi l'acqua, ha chiuso a 2,79 in totalizzatore, escono bene sia Superman, che aveva anche lui un numero in seconda fila, che questo appunto Stornello, 135 euro pagava, buono per la prossima. Ligna allo studio. Grazie. 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 Grazie.